Un comportamento corretto e disciplinato sulla strada e dalla guida del proprio veicolo fa sempre la differenza in maniera positiva ed è questo ciò che intende promuovere il progetto Vacanze coi Fiocchi che pone particolare attenzione al tema nei mesi estivi. La polizia locale di Bari vi aderisce assieme ad altre città italiane come Adezzo, Bologna, Ferrara, Legnano ed Alghero. 26 i milioni di italiani in vacanza in questa estate 2022 ed il 56 per cento di essi userà proprio l'auto per spostarsi. A fare gli onori di casa anche il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio De Caro assieme al comandante Michele Palumbo. Promuovere la sicurezza stradale sulle nostre strade sia nei percorsi lunghi sulle autostrade ma sia sulla rete urbana. Quindi informare i cittadini su una serie di criticità che possono essere vissute, mettersi in viaggio con consapevolezza, utilizzare le cinture di sicurezza, non utilizzare i cellulari alla guida che sono motivo di distrazione. Quindi una serie di comportamenti vietati sui quali poniamo l'attenzione e informiamo o ricordiamo i cittadini che non vanno seguiti quei comportamenti sicuramente pericolosi per la sicurezza di sulle strade. Il progetto mira soprattutto a prevenire gli incidenti stradali su scala nazionale nel 2021 in aumento rispetto al 2020 ma in calo rispetto al 2019. Tra le cause degli stessi una velocità elevata, distrazioni o mancato rispetto della precedenza. Qual è la situazione nel barese? Sono ancora un trend in diminuzione rispetto al 2019 che era un anno ordinario per la viabilità cittadina però dobbiamo cercare di non perdere questo trend in diminuzione sia quest'anno 2022 ma anche per gli anni futuri perché l'obiettivo ancora di diminuire il numero delle vittime della strada è ancora di là da venire.